Noi siamo nati come redazione tre anni e mezzo fa. Nell'ultimo anno e mezzo, due anni, grazie alla crisi, le crisi sempre fanno nascere qualcosa, è aumentato molto l'interesse perché ci si rende conto che quello che succede qui a Bruxelles convolge anche Roma in qualche modo. Abbiamo una redazione molto giovane, l'età media è sotto i 30 anni o comunque a 30 anni, e questo non è un caso, serve anche a saper dialogare meglio con i giovani che sono quelli che faranno ormai l'Europa del futuro. Noi 50 anni ormai stiamo gestendo, spesso anche male, l'Europa che è stata. Bisogna arrivare all'Europa nuova e una maniera di informazione diretta con informazioni semplici e approfondimenti quando sono richiesti è un buon modo. Noi adesso abbiamo a fine di questa settimana il nostro convegno annuale e per sostenerlo abbiamo anche lanciato un concorso per i giovani dal titolo L'Europa che vorrei. E devo dire che questo concorso, l'abbiamo fatto insieme alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, abbiamo avuto una partecipazione straordinaria. Ma la cosa più bella è che questi ragazzi, quasi tutti, hanno una grande speranza nell'Europa. Cioè si aspettano qualcosa, vogliono partecipare e singolare rispetto a qualche generazione fa la gran parte di loro chiedono che in Europa si parli una lingua, cioè l'inglese.